Sì, sai perché non fai mai niente, Amanda? Perché sei troppo impegnata a non fare niente. Ok, vado adesso. Amanda, tua madre mi ha chiesto di non uscire più con te. Tu hai bisogno di farti degli amici. Tu hai detto a Judy che non puoi più uscire con me. Perché vuoi rovinarmi la vita? Pavel? Dovevamo andare nello stesso centro estivo, ma lui si è iscritto in uno in cui io non potevo andare. È uno stronzo. Non è uno stronzo. Ha otto anni, sua mamma sceglie per lui. Ancora peggio. Tu non vuoi un fidanzato che fa tutto quello che gli dice sua madre, vero? No. Bravo. Perché non vai a trovare la figlia di Viola? Rebecca! Secondo me non mi succedevano cose belle perché non avevo nessuno a cui raccontarle. Niente è perduto. Si dà il caso che io stia proprio cercando una migliore amica. Ma faccio in cuore. Ma quindi Rebecca non esce proprio mai? Ma che cazzo di problemi avete in questa famiglia? Una volta ho visto un cerbiatto su questa strada. A me ragazzi piace sempre un sacco questa storia. Tecnicamente non è una storia. Non vengo. Perché? Che non resto chiusa in camera perché mi piace questa camera. Lo faccio perché odio le feste. Pensavo che andasse tutto bene. È proprio questo l'inganno della borghesia, papà. Ma è anche il suo fascino. Un giorno non sei nessuno e il giorno dopo ti sveglia e un'amica, un fidanzato e quasi un cavallo. Amanda, no, no, stiamo insieme. Beh, mi sembra una reazione un po' eccessiva. Hai dei tratti di personalità a borderline che non fanno bene a Rebecca. Che cazzo c'ho io? Scusa, genio del male. Sto qui perché ho sempre sentito la mancanza di un'amica senza mai averne avuta una. E questa cosa non è possibile, lo capisci? Poi ho scoperto che da piccola un'amica ce l'avevo. E dari tu.